Picchiano, insultano e rapinano un giovane di 17 anni minacciandolo con una pistola. Arrestati 5 adolescenti, tra cui un minorenne e una ragazza. È accaduto a Bugugiate. Il 17enne è stato attirato con una scusa nel parco comunale della città, dove i 5 hanno iniziato a insultarlo, picchiarlo con calci e pugni, minacciarlo con una pistola a salve, per poi rapinarlo di telefono, portafoglio e di alcuni dei suoi vestiti. Il giovane sotto sciocca è riuscito a scappare e a raggiungere a piedi scalzi un negozio, dove ha chiamato il 112. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno individuato gli autori della rapina e hanno recuperato la refurtiva e l'arma a zocattolo. I 5 sono stati arrestati. La posizione più grave è quella di un 22enne in possesso della pistola scacciacani utilizzata per intimidire la vittima. Il fatto è preoccupante, in quanto il reato è stato commesso da dei ragazzi adolescenti, o comunque ventenni, in gruppo, motivo per il quale è motivo di preoccupazione, a causa del fatto che comunque i ragazzi si sono riuniti per commettere un fatto così grave utilizzando addirittura un'arma a zocattolo per esercitare un potere di intimidazione sulla vittima. Infatti lo stesso è stato aggredito verosimilmente con calci e pugni e intimidito mediante l'utilizzo di una pistola a giocattolo con contestuale esplosione di un colpo di arma da fuoco. L'arma era sprovvista di tappo rosso. Proprio per questo motivo la vittima non poteva, in quel momento, di fronte a un'aggressione così violenta, discernere se fosse un'arma vera piuttosto che un'arma a giocattolo.